Fatti l'amante, non la pensà, eh? Il nostro amico dà questo consiglio a un uomo che vuole dubitare della moglie perché non riesce a stare più tanto come prima intimamente con lui perché sta in menopausa. Ovviamente io a questa persona gli ho consigliato di stare vicino alla moglie, di parlare anche per capire perché e cosa comporta la menopausa. Il matrimonio che cos'è? È una squadra di palloni che quando si infortuna un giocatore si chiama il sostituto? Si chiama il giocatore di riserva? No. Il matrimonio che cos'è? È come comprare una macchina dove quando la macchina si rompe il biglietto e ne prendi un'altra, eh? Così facciamo con le mogli, facciamo con i mariti, quando non sono buoni più lo sostituiamo, così buttiamo all'aria tutti gli anni del matrimonio. Invece per me il matrimonio è tutta una cosa. Per me il matrimonio è una marcatella in mezzo al mare. Ho saputo il mare, il mare è la vita. Tante volte il mare è bello e si può navigare tranquillamente. Allora invece bello e buono capitano certi tempesti che a un momento nato ti puoi capire. È facile rimanere in coppa che la nave si godevo solo quando va tutto cosa buona. Ma ho saputo qual è l'amore vero. L'amore vero è quando in coppa che la nave, in coppa che la cavarcatella, tu ci stai insieme e combatti e affronti la tempesta. Perché è facile stare insieme a una persona quando va tutto cosa buona. Che loro possono fare tutto quanto. È difficile, sapete qual è? È resta in coppa che la varcatella, uniti. La paura è un gollo. Ma senza la sciasula. Il proprio compagno di vita. Avete capito? Questo è un matrimonio. L'età, la menopausa, i figli, i problemi. E i sordi che non ci stanno. Kill sui problemi che rendono un rapporto ancora più forte. Perché è là che si costruisce ancora di più il rispetto e la reciprocità. Perché il matrimonio è una casa che si costruisce mattino per mattino. Giorno dopo giorno. Che si sacrifica con l'impegno, con l'amore, con il conforto. Con il sostenersi. Questo è l'amore vero. E allora basta un problema che allora ci trova ammanato. E subito facciamo. Che tristezza pensare questa cosa. Pensare che all'improvviso tu non sei più così disponibile in intimità con tuo marito dopo 20-30 anni di matrimonio che era dall'anima. E tenere paura che ti sostituisce con un'altra. Che tristezza pensare questa cosa. Non mi offrirò a pensare. E invece penso che ci sono tante uomini e ci sono tante femmine che nonostante tutto vanno oltre. E rimangono in quella casa costruita dopo tanti anni. Dopo tanti sacrifici. Che rimangono in coppa che lavare il cattello. Pure quando ci stanno che l'unica ti fanno paura. Che è l'amore vero. Caro amico, io spero che tu non abbia una moglie. Perché se fosse così lei dovrebbe avere paura il giorno che va in menopausa. Perché può pensare che magari tu a un momento nato la potresti sostituire con un'altra persona. Non so far così. Sono stanziima perché si sceglie ogni giorno di stare insieme. E quando si sceglie ci si impegna a stare con quella persona sempre. Quando le cose vanno buone. E quando le cose soprattutto vanno malamente. Capito? Buona vita.